Salve, oggi parliamo della variazione del tasso ufficiale di riferimento che è stato comunicato dalla Banca Centrale Europea con una decisione di politica monetaria del 12 settembre del 2024, variazione del tasso che si è ridotto a 3,65% a decorrere dal 18 settembre del 2024. Perché è importante? Perché alla variazione, ai tassi ufficiali di riferimento sono appunto collegate le sanzioni civili che vengono appunto combinate dall'Inps ma in generale dagli enti previdenziali e assistenziali in caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi o premi, quindi non solo dall'Inps ma anche dall'Inail, in base appunto alla normativa di riferimento che è la legge 388 del 2000, articolo 116,8, lettere A e lettere B rispettivamente per l'ipotesi dell'omissione e dell'evasione contributiva. Però al tasso ufficiale di riferimento è collegato anche la percentuale da applicare per le dilazioni amministrative, quindi per le reteazioni in fase amministrative che sono state appunto autorizzate dall'Inps. Infatti a decorrere appunto in seguito a questa variazione, a questa riduzione del tasso nella misura del 3,65% dal 18 settembre del 2024 significa che a decorrere da questa data il tasso da applicare per le le dilazioni amministrative sarà pari al 9,65% perché al tasso ufficiale di riferimento per le dilazioni bisogna aggiungere 6 punti percentuali, mentre per quanto riguarda l'ipotesi dell'omissione contributiva, quindi sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei contributi comunque dichiarati all'Inps o dei premi comunque dichiarati all'Inel, la sanzione da applicare per l'ipotesi appunto dell'omissione è pari al 9,15% perché al tasso ufficiale di riferimento bisogna aggiungere 5,5 punti percentuali a decorrere dal 18 settembre del 2024. Ricordiamo però proprio in tema di sanzioni civili che a decorrere dal 1 settembre del 2024 la legge la 388 del 2000 articolo 116,8 è stato appunto modificato e integrato dal decreto legge numero 19 del 2024 che prevede appunto che dal 1 settembre nel caso appunto di denuncia spontanea di pagamento entro 120 giorni dei contributi in caso di omissione contributiva la maggiorazione di 5,5 punti percentuali non si applica e quindi significa che se il datore di lavoro che non ha potuto pagare contributi o premi per tempo effetto il pagamento spontaneamente prima di richieste da parte degli enti impositori entro 120 giorni quindi prima di ricevere qualunque forma di avviso bonario potrà appunto calcolare le sanzioni nella misura proprio ridottissima pari a 3,65% esattamente lo stesso importo del tasso ufficiale di riferimento in vigore dal 18 settembre. Ovviamente se il debito è anteriore al 18 settembre andrà considerato anche protempore il tasso ufficiale di riferimento in vigore per il tempo precedente al 18 settembre del 2024. Sappiamo che in caso di evasione la sanzione è una sanzione più alta perché è fissata nella misura del 30% in ragione d'anno con un tetto massimo del 60% però anche qui è intervenuta una modifica perché generalmente in caso di denuncia spontanea di un contributo evaso o di premi evasi però non più vecchi di 12 mesi l'ordinamento premia appunto diciamo questo rabbedimento spontaneo del contribuente evasore applicando al posto della sanzione per evasione il 30% in ragione d'anno applicando appunto la sanzione prevista per l'ipotesi dell'omissione contributiva pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali a condizione che il debito non sia più vecchio di 12 mesi e che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni. Il decreto legge 19 del 2024 articolo 30 è intervenuto anche su questa denuncia spontanea in caso di evasione permettendo di regolarizzare la posizione nel più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea però in questo caso il tasso ufficiale di riferimento che è pari appunto a 3,65% a decorre dal 18 settembre andrà maggiorato di 7,5 punti percentuali e quindi appunto la sanzione da calcolare nell'ipotesi di denuncia spontanea per evasione contributiva sarà pari all'11,15%. Poi la legge 388 del 2000 è stata riformata anche, l'articolo 116 è stato riformato anche nel comma 10 che riguarda la sanzione da applicare in caso di oggettive e contrastanti incertezze giurisprudenziali e amministrative che si sono consolidate sia a livello giurisprudenziale e amministrativo che fino al 31 agosto del 2024 erano soggette alla sanzione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali però a decorrere appunto dal primo settembre proprio per effetto di questa modifica integrazione ad opera del decreto legge 19 del 2024 sono stati appunto queste sanzioni sono state ridotte nell'ipotesi appunto di oggettivi e contrastanti incertezze amministrative e giurisprudenziali sono state ridotte nella misura pari agli interessi legali. Quindi questa circolare dell'Inps la 89 del 16 settembre del 2024 va a disciplinare sommariamente appunto non solo la variazione del tasso ufficiale di riferimento dal 18 settembre del 2024 ma va appunto a specificare rispetto alle precedenti circolari relative ai precedenti tasso ufficiale di riferimento anche queste novità che a decorre dal primo settembre sono intervenute nel nostro ordinamento proprio per effetto della modifica dell'articolo della legge 388 del 2000 articolo 116,8 letterale 3b ad opera appunto del decreto legge 19 del 2024 in particolare dell'articolo 30.